Siamo qui a Fano con la settore pari opportunità Marina Barnidi per parlare di un progetto di prevenzione che abbiamo chiamato Fano Cammina. Questo è un progetto che nasce circa due anni fa su proposta anche di alcune cittadine che sapevano appunto che c'era un interesse forte da parte nostra a voler offrire al nostro territorio, in particolare alle donne ma anche agli uomini se disponibili, dei momenti di prevenzione ai disturbi cardiovascolari, al problema dell'obesità al problema anche dell'umore per esempio, quindi sia per problemi fisici che per problemi che a volte arrivano problemi psicologici nel corso della vita. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una proposta che è stata quella di iniziare a fare delle camminate insieme. Abbiamo fatto un incontro di avvio per spiegare appunto come l'avremmo organizzato e a questo incontro hanno partecipato molte donne e abbiamo fissato con loro un appuntamento serale, settimanale che prevedeva un'ora di cammino sia con un circuito all'interno della città nel periodo invernale e nel nostro bellissimo lungomare durante l'estate. Questo è stato accolto molto favorevolmente da molte donne che non vanno in palestra che non hanno piacere di fare le camminate da sole e quindi è diventato un gruppo molto numeroso. L'anno successivo, vedendo l'interesse da parte delle donne e anche l'interesse nostro a voler approfondire, abbiamo deciso di coinvolgere anche altri servizi e quindi abbiamo coinvolto sia l'ASI, che è appunto un'associazione che si occupa di sport, e sia il CDH, il Centro di Documentazione Handicap, per favorire insieme, per fare insieme un progetto che non solo prevedesse le camminate, ma anche delle attività di tipo fisico, quindi delle attività che prevedono il Pilates, che prevedono insieme anche all'ASUR, mi ero dimenticata, ma anche l'ASUR, quindi l'azienda sanitaria unica regionale, dei momenti per il tempo libero ma anche per la salute. Quindi attività di ginnastica all'interno di uno spazio messo a disposizione dalla combattente, dove il CDH e quindi il gestito dalla GFH aveva appunto questa funzione di informare le donne sugli orari, sul certificato sanitario e tutto quello che doveva fare. E allo stesso tempo ASI ha messo a disposizione gli esperti che favorivano questo percorso. Oggi siamo qui anche, perché questo sta andando molto bene, per informare su una serie di conferenze che faremo con esperti della salute, quindi dietisti, fisiatri, cardiologi, ginecologhe, per cercare di dare sempre più strumenti alle donne, metterle sempre più nelle condizioni di sapere come tutelare la loro salute. Siete consapevoli che la salute fisica e epicologica sono tempo intersecate e aiutare una può dire sull'altra? Io sono convinta, anche come psicologa, che non esiste la salute senza anche la salute mentale. Questo lo dice anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché noi abbiamo bisogno di un benessere che arriva anche da dentro, che arriva dalla nostra capacità di vivere le relazioni, dalla possibilità di avere dei contesti di vita sani, piacevoli. Soprattutto quando a volte la vita ti mette di fronte a certi problemi, si ha bisogno di andare avanti e quindi di avere altre opportunità nella città. Quindi la salute fisica e la salute psicologica sono strettamente collegate e quindi perché una funzioni e anche l'altra in un'unica persona, dobbiamo agire su tutte e due. Che organizzazione Fano Cammina? Fano Cammina è un progetto che nasce nel 2016 dalla collaborazione della Commissione per Opportunità della Regione Marche, della quale faccio parte, la CPO, come hai detto tu, e insieme al Comune di Fano, all'assessorato alle pari opportunità, raccogliendo l'idea di alcune donne di Fano che proponevano questo come un progetto per la salute proprio riferito alle donne. Ci siamo comunque unite per elaborare un progetto che potesse essere un appuntamento fisso, semplice, una volta a settimana, questo dal 2016 fino ad oggi è avvenuto tutti i mercoledì sera, dalle 20.30 alle 21.30, con una camminata di un'ora in piano con un ritmo sostenibile, sono più o meno 4,5-5 km. Questo appuntamento che è Fano Cammina è un appuntamento che nasce per rispondere a un'esigenza di salute delle donne che sappiamo comunque essere più soggette ad alcune patologie cardiovascolari e alcuni tipi di tumori specifici per le donne e nel programma di prevenzione della salute abbiamo visto che è molto importante, che incide moltissimo in senso positivo il camminare, la camminata. Sì, oggi presentiamo all'interno del protocollo dei comuni che promuovono salute le ulteriori attività che vengono proposte da tutti e tre i comuni. Ogni comune ha già una bella storia di promozione della salute, crede fermamente nella salute dei propri cittadini e quindi stimola a procedere con delle nuove attività. In collaborazione oggi l'ASUR con questi tre comuni presenta una serie di incontri formativi che saranno gestiti da vari professionisti, una psicologa, l'alletista, la ginecologa, un fisiatra, proprio per puntualizzare alcuni temi di promozione della salute, soprattutto una salute per gli over 40, quindi un'età matura, un'età adulta, periodo nel quale spesso gli stili di vita vengono un pochino tralasciati. Quindi ci sarà un focus soprattutto legato al movimento e all'alimentazione. I singoli programmi li potrete avere seguendo la programmazione dei singoli comuni. Sì Stefano, tramite Fano Cammina siamo riusciti a coinvolgere un gruppo dai 30 ai 40. L'obiettivo naturalmente è quello in realtà di coinvolgerne ancora di più. Anche il gioco delle bocce può essere proposto a tutti? Sì, infatti, oltre a questi due obiettivi, insomma, oltre a queste due giornate, questi due appuntamenti, abbiamo anche un appuntamento con l'attività ricreativa, quindi con le bocce. Abbiamo coinvolto e cerchiamo di coinvolgere anche questo gruppo di persone, anche in un'attività extra ludica, ricreativa, aggregativa. Quindi è un momento che può essere rivolto veramente a tutti, perché le bocce può essere giocate sia dai bambini che dagli adulti che dagli anziani. È adatto a tutte le età e a tutti i livelli di forma fisica. Cosa vi promettete di raggiungere come obiettivo? Bene, quest'anno abbiamo attivato un gruppo, un corso e quindi un gruppo di persone. A breve, probabilmente ai primi di aprile, ci stiamo muovendo per attivare un doppio turno, quindi potremo riuscire ad accogliere, quindi ad accontentare, a far muovere, a far fare attività fisica, attività ricreativa, due gruppi di persone, quindi due gruppi da 25-30 persone, quindi stiamo parlando di 50-60 persone. Ci tengo a dire, Stefano, che questi corsi sono gratuiti, grazie alla collaborazione con l'Azur, con l'Azur Marche. Questi corsi sono gratuiti, occorre solo presentare il certificato medico e pagare semplicemente 10 euro di iscrizione di quota associativa, con il quale hai anche l'assicurazione. Dopodiché abbiamo 24 settimane, quindi quasi 6 mesi, di attività gratuita, due volte a settimana, due ore di attività posturale e camminata. La GFH con il progetto H-Risponde ha avuto un ruolo di segretariato. Questa è stata un'opportunità che è stata offerta a questo progetto di H-Risponde che ha permesso ai ragazzi con disabilità di prendere tutte le iscrizioni e quindi ha fatto un lavoro vero e proprio di segretariato. Nello stesso tempo è una realtà che ha permesso di far conoscere questo tipo di possibilità che può essere data e offerta anche attraverso altri tipi di iniziative. Quindi ha fatto capire che, diciamo anche pur per un piccolo spazio, è possibile dare un'opportunità lavorativa e soprattutto un riconoscimento della persona. Quindi noi come a GFH abbiamo deciso di dare questo tipo di servizio di segretariato proprio con questo obiettivo, il riconoscimento della persona nelle sue capacità. E questo ha dimostrazione che anche in importanti iniziative si possono riservare degli spazi gestibili da ragazzi che possono mettere le loro capacità e a dimostrazione e soprattutto per la loro credibilità. Tutto qua. Che ruolo ha Fermignano in questa associazione qui? Allora, Fermignano in realtà nasce come promotore di Città della Prevenzione. Siamo stati il primo comune della Regione Marche a diventare Città della Prevenzione e poi Fano e Vallefoglia si sono uniti a noi. Abbiamo unito le forze perché appunto la prevenzione è l'arma del futuro per poter far sì che la gente possa, innanzitutto, fare degli stili corretti di vita e quindi poter avere un benessere nel futuro e quindi anche dei risvolti positivi per la senilità. Quindi abbiamo deciso di mettere insieme tutte le nostre forze e partecipiamo in questo caso con una serie di conferenze ma già nel passato abbiamo fatto Città Cardioprotetta, attività sui bambini, attività di promozione sulla vaccinazione e ultimamente appunto insieme anche il comune di Fano e Vallefoglia faremo questa serie di sei attività appunto di promozione che vanno dal ginecologo fino ad arrivare allo psicologo con sei appuntamenti diversi nel mese di febbraio e mese di marzo. Tra i aderenti all'iniziativa abbiamo la signora Clara Santi. Clara, cosa l'ha spinta a partecipare? Buongiorno. Allora, è un po' che desideravo fare qualche attività sportiva perché so che avendo giunto una certa età diciamo è molto importante il movimento. Sto partecipando dritto a questo progetto che è molto importante e quindi facciamo una camminata una volta alla settimana di un'ora il mercoledì sera alle 8.30 e in più è lunedì pomeriggio e lunedì sempre lunedì sera alle 8.30 c'è un'ora di ginnastica posturale alla combattente e ci troviamo molto bene, siamo ben seguiti da un ragazzo che è laureato. È una cosa molto bella che ci piace e ci stimola. Soprattutto poi è molto importante questo progetto perché è un input a uscire, a conoscere nuove persone oltre appunto al grande beneficio che ne deriva da questa attività. A chi consiglierebbe di aderire? Allora, questo è un consiglio di aderire a tutti, sia specialmente alle donne come appunto abbiamo ci è stato detto poco prima nella conferenza perché diciamo diventando over ci sono dei problemi cardiovascolari in più tante patologie che possono subentrare. Poi a tutti, anche uomini e anche ai ragazzi come vi ho detto diversamente abili perché è un modo anche per relazionarsi agli altri e appunto poi fare movimento fisico che è molto importante, tutti oggi ci raccomandano di fare movimento fisico abbinato appunto a una sana alimentazione. Grazie. 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 Grazie a tutti i programmiаньi.